Sono al vaglio del personale della Polizia di Stato di Sciacca e gli ordini del dirigente Fabio Pipitone i filmati dei sistemi di videosorveglianza dislocati in diverse zone della città. Immagini acquisite nell'ambito delle indagini avviate dopo il rimmenimento una decina di giorni fa di manifesti offensivi e perfino di un fantoccio che hanno preso di mira rappresentanti del mondo politico locale. Le immagini della videosorveglianza acquisite subito dopo l'accaduto potrebbero fornire elementi molto utili per risalire all'autore o agli autori del deprecabile gesto. Le indagini vanno avanti nel più stretto riservo ma potrebbero registrare importanti novità già nei prossimi giorni. Attraverso l'acquisizione di questi filmati si cerca di individuare i responsabili e di capire se chi ha collocato i manifesti sia anche l'autore del fantoccio lasciato su una panchina a Porta Palermo con la foto dell'ex parlamentare Nuccio Cusumano. Dunque al vaglio delle forze di polizia tutti i movimenti registrati dai sistemi di videosorveglianza nella notte tra il 28 e il 29 settembre scorsi nelle zone in cui sono stati collocati i manifesti e il fantoccio. Sempre ai fini delle indagini e nel tentativo di stabilire l'ora in cui sono stati collocati i fantoccio e i manifesti la polizia di Stato ha anche sentito alcune persone. Il GIP del Tribunale di Sciacca ha intanto convalidato il sequestro di nove manifesti offensivi una burla di cattivo gusto che oltre all'ex parlamentare Cusumano ha preso di mira come noto anche l'ex vice sindaco Filippo Bellanca e il sindaco Francesca Valenti, un gesto che è stato condannato da tutte le forze politiche cittadine.